La famosa conduttrice Michelle Unziker completamente esclusa, il noto medico-chirurgo nonché suo attuale compagno Giovanni Angiolini decide di trascorrere dei momenti di relax con la sua metà. Ecco di chi si tratta e cosa è effettivamente successo. Michelle Unziker scaricata da Angiolini Letto Quotidiano. It in questi ultimi mesi abbiamo sentito molto parlare della famosa conduttrice, quest'ultima appunto ha deciso di separarsi dal noto imprenditore Tommaso Trussardi dopo ben dieci anni. La notizia ha scatenato un putiferio mediatico, a rendere pubblica la notizia però sono stati proprio loro. Entrambi inoltre hanno confessato di volersi impegnare nel mantenere un rapporto di amicizia e rispetto reciproco così da non influenzare negativamente sulla crescita di sole celeste, ovvero le loro due splendide bambine. Dopo qualche tempo però, la notizia della separazione ha lasciato molto spazio all'avvicinamento della nota conduttrice al famoso medico. I due infatti sono stati avvistati insieme. Nonostante vi sono innumerevoli scatti pubblici che li ritraggono insieme la donna continua però a dichiararsi felicemente spensierata e lontana da ogni impegno sentimentale. Michel Unziker Letto Quotidiano.it Le sue parole però non corrispondono ai fatti poiché sono infatti molte le dichiarazioni che confermano la loro vicinanza. In questo ultimo periodo però, anche se la loro relazione sembra procedere a gonfie vele, il medico e compagno della donata ha deciso di allontanarsi da lei. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo tra i due chi è la vera metà di Giovanni Angolini. Giovanni Angolini dimentica Michel Unziker con la sua metà? Ecco di che cosa si tratta e soprattutto di chi come vi abbiamo già anticipato il chiacchiericcio sul conto della donna continua tuttora a circolare. Pare appunto che i due abbiano pensato di compiere il grande passo vivendo incredibilmente vicini. Questa voce però non ha mai ottenuto la conferma dei diretti interessati e proprio per questo motivo infatti il dubbio inizia ad infittirsi. Occhi 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 pittay.twitter.com barra l8v25 bms8 marietta chiocciola marietta mitica giun 20 2022 nelle ultime ore appunto il noto medico ha deciso di allontanarsi dalla donna per trascorre del tempo con una persona a lui molto cara. A rendere pubblico il tutto è stato proprio lui tramite un semplice video. Stiamo ovviamente parlando del fratello di Giovanni il quale ha trascorso con lui delle ore di relax lontano da ogni impegno e da ogni fonte di stress. I due infatti appaiono sdraiati su dei lettini da spiaggia a godersi il sole. Attorno a loro vi sono molte altre persone. La spiaggia però non è dettagliatamente riconoscibile. D'altronde è giusto godersi dei momenti di meritato relax in compagnia della propria famiglia. Grazie.